andiamo a vedere quale consiglio c'è per te vediamo per la variante numero uno qua vedo proprio una lotta c'è qualcosa di cointeso forse una relazione o forse c'è una persona in più o forse una competizione ma qui mi dicono proprio di mollare la presa e cercare di essere più libero vediamo per la variante numero due divertimento c'è una situazione che vi porta molta allegria sicuramente siete circondati da buone persone e da un momento molto fortunato